l'arbitro dell'incontro è Russo di Nola che stacca il suo quarto tagliando in cuo parte Betti Voglio, la barriera le spinge, poi palla per Costan e Boruz si meta gli applausi di Firenze al suo esordio, rivediamo ancora il francese in aria sulla sinistra, la rovesciata per Costan che sbaglia clamorosamente ormai si gioca in un'atmosfera quasi irreale tutte le coppie dell'area della Fiorentina pronte per ricevere il cross che viene raccolto da Costan che batte centrale, Boruz si trova alla... Miracolo di Boruz sul colpo di testa ravvicinato e spesso da tele e guardate come è riuscito il portiere polacco a evitare l'aggancio avversario al 49esimo